Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo Volevo creare una nuova categoria Come sapete ho GTA V oramai da un anno E mi sono sempre trovato bene Nell'ultimo periodo mi sono messo però a moddarlo E mi avete chiesto che mod ci ho installato Io sto precipitando Bene, la prima mod di oggi che andremo a vedere Sarà quella dell'anime mod Anime Expo Si chiama così Ed è praticamente la modifica dell'auditorium Bank Central Qualcosa del genere E va proprio a creare una sorta di anime expo Che c'è stato in America Ma proprio nei minimi dettagli Adesso andiamo a vedere Oddio mi sto credo per schiantare Ok ci sono Salto Ok ci siamo Stiamo arrivando all'anime expo Eccolo qua Siamo arrivati all'anime Non mi si apre No che figata C'è ragazzi Guardate i cartelloni Hanno modificato anche i cartelloni È una figata assurda Dai Hanno messo pure la schermata Anime Expo Che figata non è È una cosa bellissima Cioè hanno fatto proprio il cartello In minimi dettaglio Io ho scritto anime expo Andiamo a fare la fila Scusate Mi scusi Lei Si salve Ascolti È qui la fila per l'anime expo Non si fuma Non sa che fa Mi è cresciato il gioco No Che figata Cioè ragazzi Ci sono sette metri Probabilmente Cioè sembra veramente L'anime expo Tra parentesi Quello italiano Anche Di Milano Che infatti È proprio così L'entrata Cioè si entra E ci sono proprio Le mega locandine Che scende No che figo Raga È bellissimo Cioè l'hanno fatto Perfettamente Qua c'è Su Nemico Con Vocaloid Cioè È una figata No Raga Voglio girare Voglio vedere Se c'è qualcosa Che cosa vuole Dica No la fila è di là Bravo Prende il biglietto Cioè ragazzi Guardate che figata No Che figo Figo Mi piace Mi piace troppo Mi piace Anche Anche qui C'è scritto anime expo Sì Scusi Scusi Lei Sì Scusi Ma è normale Che non c'è ancora nessuno Sbagliato giorno Allora Questa mod È una mod In fase ancora beta Infatti come vedete Metà del palazzo Non è stato Completato Come vedete Da un lato Rimane ancora Quello vecchio Quello con il coso Da basket Mentre all'altro C'è l'anime expo E a quanto pare Arriveranno Molti altri Aggiornamenti Ad esempio Addirittura Si potrà entrare Creeranno Dei modelli Appositi Da mettere All'interno Come se fosse anime expo Però questo è ancora tutto In fase beta Vabbè Abbiamo visto un secondo Come è questa mod In generale Ci ne saranno altre Di mod Perché io sono Fanatico di anime E soprattutto Adoro fare questo tipo Di video Anche perché Me lo avete richiesti Un casino in persone Comunque Questa era GTA 5 Con l'anime mod In Los Santos Mates Bank Arena Io vi ringrazio Per aver visualizzato Questo video Trovate nel link In descrizione Il video Che vi rimanda Un altro dei miei trailer Che ho girato appunto Con più dettagli E tutto Con anche L'area download Per il resto Da computer museo È veramente tutto Grazie ancora Al prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao ragazzi